Salve, benvenuti a tutti a questa nuova lezione in cui parleremo di tabulati telefonici e localizzazioni. Gli argomenti che vedremo sono i tabulati di traffico storico, faremo degli esempi dei tabulati telefonici, andremo a vedere l'analisi delle celle e delle localizzazioni geografiche e alcune risorse utili all'analisi. Cominciamo quindi dai tabulati di traffico storico. Nella lezione precedente avevamo già citato la direttiva 2006-24 CE del 15 marzo che fornisce le indicazioni relative alla conservazione di determinati dati generati o trattati dai fornitori di servizi telefonici allo scopo di garantirne la disponibilità ai fini di indagine, accettamento e perseguimento di reati gravi quali definiti da ciascuno Stato membro nella propria legislazione nazionale. In quel caso avevamo guardato quali erano i termini di conservazione obbligatoria per gli operatori telefonici dei dati di traffico telefonico. Quello che interessa nella lezione di oggi è invece l'aspetto relativo alle informazioni che obbligatoriamente devono essere conservate all'interno proprio dei tabulati telefonici. L'articolo 5 definisce le categorie di dati da conservare come per esempio nel caso di chiamata telefonica per utenza mobile il numero chiamante, il nome dell'abbonato, il numero digitato, il codice INSI e IMEI che sono i codici identificativi del contratto e del terminale telefonico, la cella agganciata all'inizio della comunicazione e anche altre informazioni. La legge, la direttiva in particolare, di fatto non stabilisce un formato particolare o l'adozione di qualche struttura precisa nella conservazione di questi dati. Questo significa di fatto, come peraltro vedremo prossimamente nel corso di questa stessa lezione, che ogni gestore telefonico ha la possibilità di rappresentare questi dati nel mio formato che ritiene sostanzialmente più opportuno, cosa che complica moltissimo la capacità di lettura, di comprensione anche dei tabulati stessi. Tabulati se ne parla spesso anche a livello giornalistico perché di fatto oggi rappresentano una delle prime informazioni che vengono accedute dalla polizia giudiziaria per comprendere molte situazioni, come per esempio quando sono avvenuti certi scambi di comunicazioni, qual era la cerchia di conoscenze o di contatti privilegiati di un certo indagato e quindi spesso si sente il termine genericamente di tabulato telefonico. In realtà è più di uno, nel senso che quello che definiamo come tabulato di traffico storico telefonico sono quelli in cui sono rappresentate le telefonate, gli sms e gli mms, che viene distinto da quello telematico che consiste nel tracciamento della connettività dati tramite gli access point. Attenzione che in realtà il tracciamento della connettività dati non riguarda il tracciamento di tutte le navigazioni, le mail o anche l'instant messaging che viene fatto nel momento in cui si scambiano i dati con la rete, ma semplicemente l'informazione che è avvenuto uno scambio di dati con la rete stessa. Questo per non confondersi sulla possibilità di recuperare informazioni che di fatto la rete non conserva e non traccia. Quello che viene definito come anagrafica sono tipicamente le informazioni relative alla titolarità delle utenze presenti nei tabulati. Ovviamente nel momento in cui si richiede, quindi si va ad analizzare il tabulato riferito a una certa puntuale utenza, questa interloquirà con altre numerazioni telefoniche, è importante quindi nella capacità di lettura e di analisi investigativa del dato quello di comprendere chi sono gli interlocutori rappresentati e questo file di anagrafica aiuta ad avere questo tipo di informazioni. Con una precisazione tuttavia importante, nel senso che il nominativo e le altre informazioni essenziali dell'abbonato le conosce, sembra una banalità, ma non è così poi quando si guardano i tabulati che diventa un po' complicato da riconoscere, ma la titolarità è riconosciuta solo dall'operatore che ha in gestione l'utente. Quindi io se sono abbonato con un certo operatore, facciamo l'esempio TIM, solo TIM saprà che questa numerazione corrisponde al mio nominativo e ai miei dati anagrafici e fiscali. Gli altri operatori conosceranno solo la numerazione, questo ci aiuterà poi in seguito a capire come devono essere richiesti e letti i tabulati telefonici. Quale informazioni può dare il tabulato? Innanzitutto i numeri di telefono che hanno effettuato o ricevuto chiamate da un determinato numero, la stessa cosa per gli SMS, quindi i numeri che hanno inviato e ricevuto SMS da un determinato numero, ancora le SIM che utilizzavano un determinato cellulare e la marca stessa, il modello del cellulare utilizzato, nel senso che nel tabulato telefonico, come vedremo, viene tracciato sia il codice contratto IMSI, sia il codice e-mail dell'apparato telefonico, quindi laddove una SIM viene anche spostata da un cellulare a un altro, comunque l'informazione viene tracciata dal tabulato telefonico. La cella in cui era agganciato un cellulare in corrispondenza di un determinato evento telefonico, quindi nel momento in cui avviene una conversazione, la cella viene riportata nel tabulato telefonico. L'altra indicazione che è possibile ricavare attraverso l'analisi del tabulato di traffico sono le abitudini di uso e i comportamenti di un utente, se era abituato per esempio a spegnere il cellulare la sera, a accendere la mattina, se era abituato a conversazioni lunghe o brevi, a chiamare tanto piuttosto che scrivere messaggi, tutte abitudini che caratterizzano sicuramente un utente da un altro e soprattutto le relazioni e i contatti con le altre persone, per capire qual è la cerchia di contatti che tipicamente si scambiavano informazioni, comunicazioni con l'utenza che si sta analizzando. Esistono però delle informazioni che non si possono ricavare dal tabulato telefonico. La prima è le celle agganciate da un'utenza se non è gestita dall'operatore telefonico che produce il tabulato, nel senso che nel momento in cui io trovo una conversazione dall'utente A all'utente B e l'operatore telefonico che mi fornisce questo tabulato è un operatore qualunque, l'utente A che gestisce l'operatore sarà possibile conoscere la sua cella, ma se l'utente B non è gestito dallo stesso operatore si saprà semplicemente che ha per esempio ricevuto una telefonata, ma non si saprà a quale cella era agganciato l'interlocutore, se non ovviamente andandola a chiedere all'operatore che gestisce direttamente l'altra utenza telefonica. Questo l'abbiamo accenato prima, anche i dati di titolarità seguono le stesse regole, quindi i dati di titolarità delle utenze per le utenze non gestite dall'operatore che produce il tabulato e quindi in questo caso, come abbiamo già detto, se l'operatore non gestisce una determinata utenza non sarà in grado di determinare chi ne è il titolare. E i dati relativi ai servizi internet utilizzati, come abbiamo già anticipato, non sarà possibile quindi sapere esattamente per esempio la mail se è stata utilizzata piuttosto che una semplice navigazione su un sito web, si sa semplicemente dal tabulato che è avvenuta una connessione di tipo telematico. I testi dei messaggi compresi sms e mms, non solo per quanto già detto prima, ma anche perché, come abbiamo spiegato nella lezione precedente, il meccanismo di trasmissione degli sms prevede che il suo contenuto venga distrutto non appena questo è consegnato al destinatario. Ciò significa che di fatto non è possibile quindi ricavare dal tabulato o in generale dalla rete telefonica questo tipo di informazione. Spunto di riflessione per questa parte. Grazie alle informazioni presenti sul tabulato, possiamo capire il modello di telefono usato per esempio durante una specifica chiamata? E veniamo agli esempi di tabulati telefonici. La carrellata che faremo qua si limiterà semplicemente ad alcune osservazioni, non sarebbe possibile effettuare dopo di tutte, serve più che altro a comprendere la logica e la dinamica con cui affrontare la lettura di questi documenti che apparentemente possono sembrare anche semplici e in realtà nascondono diverse insidie laddove non si conoscono correttamente i termini e i contenuti. I tabulati vengono solitamente forniti dagli operatori telefonici ovviamente via PEC, allegando i file criptati con password, quindi la modalità attuale di richiesta e di fornitura di tabulati avviene usualmente tramite la PEC, là dove si fa una richiesta diretta, ovviamente all'operatore telefonico che lo gestisce. Vengono forniti i tabulati in formati differenti, a seconda proprio dell'operatore e a seconda della tipologia di dato che viene rappresentato. Viene fornita anche l'anagrafica delle utenze relative ai tabulati prodotti e quindi laddove viene prodotto il tabulato di un'utenza per esempio di un mese, ecco tutte le utenze che hanno intendo quito con questa nell'arco del mese vengono riportate laddove disponibili sul tabulato dell'anagrafica con i relativi titolari. Viene prodotta una lettera di risposta dall'operatore in conseguenza appunto della richiesta che tipicamente proviene dall'autorità giudiziaria ma a volte anche dall'avvocato che nell'ambito delle indagini difensive formula delle richieste specifiche per il proprio assistito. Veniamo ad un esempio. In questo caso è il contenuto sostanzialmente della richiesta fatta all'operatore in cui c'è una cover letter che è la risposta che l'operatore telefonico, ci sono i file relativi all'anagrafica cosiddetta, quindi questi file conterranno le informazioni relative ai titolari delle utenze e poi ci sono questi quattro file che sto andando a selezionare che contengono il vero e proprio traffico. Allora perché ce ne sono così tanti? Come si può notare dall'estensione alcuni sono PDF, altri sono TXT. La differenza è che il PDF è sicuramente un formato comodo per la lettura umana nel senso che può essere facilmente stampato e analizzato, tuttavia diventa molto complicato fare incroci e analisi su dei fogli stampati e quindi il formato TXT che viene appunto fornito in generale da tutti gli operatori telefonici consente di poter caricare i dati attraverso software automatici o comunque che automatizzano certe funzionalità in modo da facilitare poi l'analisi successiva dei dati. Il verbale conclusivo è quello che chiude, ecco in questo esempio, come l'operatore ha risposto a una certa richiesta. È utile precisarlo perché spesso nell'ambito delle indagini la polizia giudiziaria tende magari a conservare solo i file PDF perché sono più facili da stampare, ma non bisogna trascurare il fatto che analisi per essere condotte in maniera efficace necessita sicuramente del dato in formato elettronico completo come quello che viene fornito tipicamente dal file tipo TXT. Andiamo a questo punto a vedere i tabulati dell'operatore team, questi si caratterizzano per il fatto di essere distinti in traffico in uscita e traffico in ingresso, è l'unico operatore che effettua la distinzione, proprio per questo merita di essere guardata con una maggiore attenzione. Separatamente viene fornito anche il dato relativo al traffico telematico e per andare proprio nel contenuto stesso di questo tabulato andiamo a vedere alcuni esempi in cui sono state omesse, qua ovviamente le informazioni sensibili. Questo è come appare il tabulato di traffico, come vediamo, in ingresso e in effetti questa stessa informazione ci viene fornita anche nello stesso tracciato qui sotto, traffico in entrata, il traffico è riferibile all'utenza che qui è mascherata e si ha anche l'indicazione di qual è il periodo per cui è stato estratto questo traffico che sarà presumibilmente l'informazione proveniente dalla richiesta stessa fatta all'operatore telefonico. Questa è la pagina di intestazione, a questa pagina seguono tutte le informazioni di dettaglio che adesso andiamo appunto ad analizzare. Vista d'insieme la pagina sicuramente presenta qualche difficoltà di lettura, adesso andando ad ingrandirla andremo a comprendere quali sono tutte le informazioni che ci servono. Abbiamo sicuramente l'informazione della data, abbiamo l'ora in cui è avvenuto questo evento telefonico e la sua durata. Dopodiché abbiamo l'informazione del telefono chiamante e del telefono chiamato che vengono disposte su due righe. Questo è interessante perché poi nel resto del tabulato, sulla parte che vediamo poi qui più a destra, l'informazione relativa al chiamante o al chiamato viene disposta proprio in corrispondenza di fatto della stessa riga. Quindi noi possiamo sapere che le informazioni che sono qui di seguito sono riferite al chiamato perché stanno appunto posizionate nella riga sotto. Andando avanti vediamo che il tabulato contiene anche l'informazione relativa all'IMSI, quindi il codice del contratto, del chiamante e del chiamato a seconda della posizione, in questo caso abbiamo quello chiamato, l'email che ovviamente consente attraverso questo numero di ricavare esattamente qual è il tipo di apparato che veniva utilizzato in quel momento associato a quella specifica SIM. E poi andando più avanti abbiamo l'informazione relativa alla cella, che sono queste due, SLED e CGI. CGI è l'identificativo univoco a livello mondiale che consente di caratterizzare la singola cella agganciata. Quello che si vede invece nella parte SLED è un codice che in questo caso è adottato tipicamente dall'operatore specificamente TIM, ma spesso anche altri operatori hanno l'abitudine di identificare le proprie celle con un codice differente. In questo caso vengono rappresentati entrambi nel tabulato. E per finire c'è la spiegazione di qual è l'evento telefonico che guardiamo, questo, con anche il tipo di chiamata. Visti così appaiono ovviamente ostici da comprendere. Per poter capire esattamente di che si tratta, dovremo rimandare poi successivamente alla leggenda, che è l'ultima pagina del tabulato, che contiene tutte le specifiche. Per andare, ma la vedremo dopo questa parte, giusto per andare a distinguere altri elementi caratteristici, qui è utile vedere come c'è una durata uguale a zero, ricordiamo che le durate in questo caso sono espresse in secondi, perché si tratta in realtà in questo caso di un SMS e lo capiremo proprio grazie a questo codice che viene inserito. Questo è un tabulato, abbiamo detto, tutto in ingresso. Vediamo che in realtà in uscita le differenze sono praticamente nessuna. La lettura è la stessa, traffico in uscita, la numerazione è sempre questa nascosta, il periodo di traffico rimane sempre visibile nella parte qua e quindi di fatto tutte le informazioni del primo tabulato sono presenti anche nel secondo, come vediamo bene anche nell'esempio qui di seguito. La differenza ovviamente sta nel fatto che in un pezzo del tabulato ci sono tutte le chiamate che entrano, in questo ci sono tutte le chiamate che escono da quella numerazione. Infatti questa numerazione in questo tabulato si trova nella prima posizione, nella posizione più in alto. Direi che possiamo scorrere velocemente, vedendo che anche qui abbiamo data, ora, durata, le stesse informazioni. Potrebbe essere interessante cogliere per quale motivo abbiamo, per esempio, questi tre, che sono tre cosiddetti cartellini, ognuno di queste righe è un cartellino, perché ce ne sono tre che apparentemente sembrano descrivere un evento avvenuto nello stesso istante e con la stessa durata. La risposta è semplicemente che si tratta effettivamente dello stesso evento telefonico. La spiegazione di questo, come sarà possibile vedere meglio successivamente, è che questo primo cartellino è la chiamata ricevuta, quindi è il ricevente che ha questo tipo di cartellino, mentre invece per quanto riguarda gli altri due è il chiamante, quindi si riferiscono tutte le informazioni all'utenza che sta chiamando. I codici in fondo ci consentono di capire che si tratta di una chiamata in fonia GSM, poi vedremo meglio dalla leggenda, e che si tratta in questo caso di un fine conversazione, tant'è che per capire che si tratta di un fine conversazione vediamo che nel cartellino iniziale c'è solo la cella iniziale, qui abbiamo cella iniziale e cella finale, agganciate nel momento in cui la conversazione è cominciata ed è terminata. In questo modo abbiamo un po' compreso quali sono tutte le informazioni essenziali da leggere. Il tabulato presenta, come dicevo prima, una parte finale ricca di informazioni che consentono di comprendere il significato. Abbiamo visto la F precedentemente e qui la possiamo finalmente collocare come una chiamata in fonia. La G si riferisce lo stesso alla chiamata in fonia, ma in tecnica UMTS, così come abbiamo altri codici, come si può vedere, per esempio, per gli SMS, e così via. Quindi queste informazioni presenti in leggenda, arricchite anche da altre tabelle che sono sempre fornite al fondo del tabulato, consentono di chiarire per bene il significato di ogni singolo evento. In questo caso avevamo già visto prima i codici codici 01 e 14 e vediamo che effettivamente 01 corrisponde al traffico originato, ovvero chiamata in uscita, così come il codice 14 corrisponde al traffico terminato chiamata in ingresso. Esistono altri codici, qui per esemplificare ho messo anche i codici delle chiamate senza risposta CSR, che hanno un significato diverso a seconda del codice, perché può essere un occupato, un libero non risponde o anche qualcos'altro. L'ultimo dato che fornisce TIM attraverso il proprio invio è quello della cosiddetta anagrafica. Il formato è fatto in questo modo, in cui ogni riquadro contiene le informazioni sul titolare dell'utenza. L'utenza l'abbiamo nascosta, ma si può vedere che è un'utenza attivata in questo momento, l'ultima operazione di variazione che è stata fatta viene riportata in termini appunto di data e ora e ci saranno tutte le informazioni relative alla titolarità, al codice fiscale, all'indirizzo e alla via. La particolarità è che queste informazioni sono espressamente riferite al singolo evento, quindi qui in questo caso sembra che le informazioni siano tutte uguali, lo sono perché verosimilmente nelle conversazioni successive non è cambiata la titolarità del contratto, però questo tipo di rappresentazione consente di tracciare per esempio quando un'utenza viene cambiata di titolarità da un utente a quello successivo e qui si può capire chi utilizzava l'utenza in un momento piuttosto che in un altro. Tabulati Vodafone. Tutte le tipologie di traffico vengono rappresentate nello stesso tabulato. Per quanto possa sembrare complicato da leggere il tabulato team, quanto meno è diviso e abbiamo la possibilità di consultare diverse sezioni. Nel caso di Vodafone invece il tabulato ha una forma in cui tutte le informazioni sono effettivamente inserite all'interno sia di tipo telefonico sia di tipo telematico e andiamo a guardarle un pochino più in dettaglio. Come si vede già graficamente l'impatto è completamente diverso, le informazioni stesse sono rappresentate in modo totalmente diverso, per esempio è possibile vedere che c'è una data di inizio e una data fine, quindi non esiste una durata, andrà ricavata per differenza tra la data di inizio e la data fine. Così come è possibile vedere che c'è un chiamato e un chiamante, ma come si fa a stabilire qual è il verso della conversazione o meglio, quali sono le informazioni riportate in questo tabulato, per esempio in questo caso, se sono riferite al chiamato o al chiamante. Ecco, questa è l'operazione che si fa grazie al codice tipo, anche qui c'è una leggenda che viene riportata in basso, il codice 7, come possiamo leggere, è l'entrante sms, quindi si tratta di un sms in ingresso e quindi significa che questo cartellino, essendo un chiamato, quindi ha ricevuto l'sms, saranno riferite a questa numerazione. Quindi noi possiamo sapere che la cella agganciata è stata agganciata da quella numerazione, così come l'email e l'imps corrispondono in questo caso, su questa riga, al cartellino chiamato. Non è semplice, come comprendete, leggere in maniera umana una tabella che presenta così tante variabilità, ecco perché si preferisce, e lo vedremo successivamente, l'utilizzo di software che consentano una migliore lettura di questi dati. Ciò non toglie tuttavia che in moltissimi casi la necessità di comprendere esattamente il significato sul foglio, che magari è l'unico a disposizione del procedimento in essere, richiede quantomeno la capacità di distinguere le informazioni essenziali. Qui per esempio abbiamo la possibilità di vedere anche un traffico telematico, c'è mobilevodafone.it e più in basso il codice N che andiamo a recuperare, eccolo qua, uscente dati. Quindi noi sappiamo che questa è una fase uscente dati, quindi dalle 18.03 alle 18.13 l'utenza è eventualmente andata a consultare un sito web piuttosto che a scaricare la posta, ma ha intercosso uno scambio di informazioni dati con la rete telefonica. Quindi anche in questo... ah ecco, la dimenticavamo la parte principale, quella della cella telefonica. Rispetto a quello che abbiamo visto prima, in questo tabulato viene presentata una sola cella, quindi c'è solo la cella iniziale. Solo recentemente Vodafone ha introdotto la cella finale, quindi in alcuni casi sarà possibile trovare nel tabulato solo la cella iniziale, che tra l'altro non è rappresentata con il suo codice CGI univoco completo, ma come vediamo con un'accoppiata di questi codici, la ICI e zona cella. Quindi la sua lettura è un pochino più laboriosa perché accanto al numero abbiamo questa informazione relativa alla via e alla città dove è collocata e importantissimo al settore. Ricordandosi la struttura tipica delle celle che irradiano nelle tre direzioni, dovremmo capire qual è questo settore 4. Anche qui non tragghe in inganno il 4 riferito al fatto che le direzioni principali sono tipicamente 3. A seconda della tecnologia si usa proprio questa modalità in cui le celle, eccole qua, 1, 4 e 7 identificano sostanzialmente lo stesso settore, 2, 5, 8 e 3, 6, 9. Comunque in questo caso è il settore 4. Giusto per completare gli esempi andiamo a vedere anche il tabulato telematico di H3G, telematico perché in questo caso non ne abbiamo visti, ma vediamo come è rappresentato lo scambio dati. Abbiamo la PN che è il punto di accesso che è 3.it, il chiamante sarà necessariamente sempre lo stesso, abbiamo le date, le ore in cui è avvenuto questo scambio di dati e come vedete riporta come informazione il volume di dati scambiati, espresso in kilobyte e la durata complessiva della connessione. Non tragga anche qui in inganno un numero così alto, 2.086, 9.500, la connessione telematica non è continua come una conversazione telefonica in cui di fatto, salvo la volontà degli interlocutori, non esistono dei silenzi. Nella comunicazione telematica possono esistere dei momenti in cui i dati non vengono scambiati, ma è comunque mantenuto attivo il canale di comunicazione e in questo caso viene quindi rappresentato nella sua durata complessiva. Anche qui abbiamo le informazioni relative all'IMSI e all'email, quindi possiamo associarle direttamente col terminale che aveva effettuato questo scambio dati e l'informazione relativa alla cella. Rispetto ai tabulati che abbiamo visto prima, qui abbiamo un'ulteriore, differente rappresentazione, non esiste proprio il CGA, esiste solo un codice numerico associato a un'informazione, una particella toponomastica, una via e tutto. Quindi rispetto alle altre indicazioni, quello che viene fornito in questo tabulato è proprio un codice che dovrà necessariamente essere decifrato per comprendere qual è effettivamente la cella che pur avendo l'indicazione di dove si trova non sapremo sicuramente da qui la direzione che effettivamente viene irradiata dalla cella che è stata agganciata. Veniamo quindi a un esempio di utilizzo di strumenti di tipo informatico. Qui ho riportato una pagina di uno strumento che si chiama Fonelog, è un caso che ho seguito recentemente di cronaca, peraltro fa vedere sostanzialmente tutti i tabulati che sono stati acquisiti, intesi come periodo che coprono. Si vede in questa slide riassuntiva iniziale, fa notare quanti sono le utenze complessive di questo tabulato, di questi tabulati che sono stati raccolti, quali sono i vari email che sono presenti appunto negli tabulati stessi, i codici contratto e relativamente ai quantità fa vedere per ognuno degli operatori che sono stati caricati quali sono le numerosità di file piuttosto che appunto di eventi telefonici. Ma la cosa più interessante che offre l'automatismo è quello di avere una rappresentazione integrata dei dati, come vediamo in questa schermata di esempio, abbiamo anche qui oscurato i dati sensibili, che serve per poter leggere e interpretare il tabulato con l'ausilio del software che ha già interpretato una serie di informazioni, per esempio nel caso della riga blu che è messa in evidenza, sotto nel riquadro che adesso evidenzio, ci sono tutte le informazioni relative, abbiamo un utente A che è un utente già distinto come Wind, abbiamo anche l'indicazione di qual è il tipo di cellulare che sta usando, Samsung, così come anche l'interlocutore dall'altra parte, abbiamo l'indicazione che questo evento è un SMS in uscita, quindi dall'utente A verso l'utente B, abbiamo l'indicazione relativa alla cella che è stata agganciata da un utilizzatore e la cella che è stata agganciata dall'altro utilizzatore. Quindi di fatto questa rappresentazione è molto più immediata per l'investigatore che sta facendo l'analisi, così come anche a seconda delle informazioni che sono scaricate dal software è possibile vedere l'area geografica in cui è posizionata materialmente l'antenna stessa, in questo caso appunto in quella zona che si vede geograficamente. L'analisi attraverso questo tipo di strumenti è molto comoda perché consente di avere a colpo d'occhio tutta una serie di informazioni, ma non solo, attraverso l'utilizzo dei filtri è possibile filtrare per utente sottoscrittore, quindi per titolare dell'utenza, oppure inserire un certo e-mail per vedere quel singolo cellulare se per caso è stato usato con più di una numerazione, così come è possibile anche individuare una precisa antenna che ha collegato un cellulare oppure una ricerca per fascia oraria o per periodo temporale. Insomma c'è un'ampia possibilità di interrogazione del sistema che facilita enormemente la possibilità di comprensione dei dati. Ovviamente tutti questi elementi possono essere anche recuperati andando a cliccarsi sugli utilizzatori, sull'email, sull'IMSI eccetera eccetera. Quindi avere la possibilità di consultare sott'occhio tutto il quantitativo di informazioni che alla lettura che abbiamo provato a fare prima sarebbero estremamente più complicati. Spunti di riflessione. In ogni tabulato di traffico sono sempre presenti le celle del chiamante e del chiamato? E veniamo a un nuovo argomento, l'analisi delle celle e delle localizzazioni. Come premessa l'operatore telefonico può localizzare un apparato con ragionevole approssimazioni in ogni istante. Questo è quello che avviene durante tipicamente un'intercettazione telefonica che deve essere autorizzata dall'autorità giudiziaria e comunque avviene effettivamente in tempo reale, ma l'analisi nei fatti storici che sono avvenuti tipicamente avviene a posteriori e quindi dovremmo vedere la posizione che può essere valutata tramite le indicazioni delle celle agganciate presenti all'interno del tabulato. Quindi è un lavoro da fare necessariamente in maniera successiva e cercando di comprendere in base a quelle informazioni quali possono essere le ipotesi di localizzazione. Ricordiamoci che la copertura di una cella telefonica è l'area coperta come una porzione irregolare e discontinua di territorio dove la copertura radioelettrica è presente con un'intensità sufficiente da consentire una comunicazione tra telefonino e antenna. Quindi l'area, come abbiamo visto nella lezione precedente, può essere anche piuttosto ampia e a seconda della tecnologia può variare. Diciamo che nelle celle cittadine che devono servire una grande quantità di utenti possono variare dai 3 ai 500 metri, ma nei territori invece dove esistono poche strutture e poche utenze possono arrivare anche fino a 20-30 km. Dov'è l'ascella indicata nel tabulato? Abbiamo visto negli esempi precedenti che ci sono delle sigle, però queste sigle non hanno un corrispettivo di una mappatura accessibile e presente. Questo significa che necessariamente occorre in ogni situazione effettuare delle richieste all'operatore telefonico, chiedendogli esattamente quali sono le coordinate geografiche di posizionamento di quella specifica antenna che rileviamo sul tabulato telefonico e qual è l'azimut, cioè l'asse di orientamento in cui quella cella sta dirigendo la copertura. Senza queste informazioni non è possibile chiaramente riuscire a cogliere concretamente qual è la copertura possibile di quel dato. Le valutazioni che si possono fare quali sono? Un telefonino può trovarsi in diverse modalità operative, posizione statica o in movimento. In idle mode, come abbiamo già visto, il telefonino non lascia traccia alla rete della sua posizione. Quindi quello che possiamo concludere con queste valutazioni è che noi possiamo dare come certa la non presenza di un telefonino in una determinata area per assenza di copertura della cella. Se io aggancio la cella A e mi trovo su un territorio che la cella A non può assolutamente coprire, io ho certamente la non presenza sul territorio B. O se io invece devo capire all'interno del territorio coperto dalla cella A dove mi trovo, ecco, io potrei essere in un qualunque punto di copertura di quella cella, non ho strumenti semplicemente da questo per comprendere se mi trovo in una via piuttosto che in un'altra o se mi trovo appunto a 100, 200, un chilometro di distanza a seconda del punto. Per capire un po' meglio qual è il tipo di ipotesi che si possono fare sulla copertura di una cella, si usa chiedere all'operatore telefonico la mappa di copertura. Le mappe di copertura sono delle mappe geografiche nelle quali tramite differente colorazione vengono evidenziate le aree nelle quali può essere ricevuto il segnale utile alla connessione telefonica. E questo lo spieghiamo più facilmente con un esempio pratico. Qui ho messo un esempio di una cella, la cella si trova posizionata in questo punto, quello che vediamo è più o meno quell'angolo di 120 gradi che già conoscevamo dalle lezioni precedenti e si può notare come la parte principale di copertura, quella rossa, ma anche in parte quella blu, è comunque tutta raggiungibile dal telefono se si trova in quest'area. Qui si nota anche un effetto un po' particolare, evidentemente qua ci sia una zona di ostacoli che non consente la ricezione, però una volta arrivati sul mare si ha un effetto particolare in cui la superficie marina riflette il segnale e possiamo immaginarci che qualcuno che si trova magari sulla costa dall'altra parte è in grado ancora di ricevere il segnale. Ecco perché si parla di ipotesi di localizzazione necessariamente, non potendo stabilire con accuratezza, solo da queste informazioni, dove si possa trovare l'utenza all'interno di quell'area. Siamo certi che non sta al di fuori, questo sì, non siamo certi di dove possa essere al suo interno. Per fare ulteriori valutazioni si può andare a misurare il campo vero e proprio con degli strumenti di misura, esistono strumenti di misura del campo di copertura usati dalle compagnie telefoniche mobili per verificare e pianificare la copertura radioelettrica sul territorio da coprire. Qui ho portato un esempio, questo che sembra essere un normalissimo cellulare, in realtà è un dispositivo che sta rilevando in questo momento tutte le celle GSM, in cui abbiamo la cella in alto, che è la cella cosiddetta servente, e le celle invece rappresentate sotto sono le celle vicine, che potranno essere oggetto di aggancio a seconda di come variano i segnali. Sembrano statici, ma in realtà col passare del tempo si modificano a seconda di condizioni di traffico, condizioni atmosferiche, spostamento del telefono e altro. L'obiettivo delle misure che vengono fatte con questo strumento è quello di affinare l'ipotesi che uno ha prodotto sulla base dello studio delle mappe di copertura. Ovviamente sono misure che devono essere fatte in momento tempestivo, non a distanza di anni, in quanto la rete effettivamente cambia morfologia e modalità di funzionamento nell'arco di tempi veramente molto brevi. Cosa serve una mappa di copertura e perché è utile per produrre ipotesi di localizzazione. Per finire giusto velocemente alcune risorse utili all'analisi che si trovano disponibili sul web. Qui per esempio c'è questo sito, Numbering Plants, dove è possibile inserire l'e-mail e una volta inserito il sito fornisce esattamente qual è la marca e il modello di cellulare che corrisponde esattamente a quell'e-mail e quindi consente di facilitare molto l'analisi. Oppure abbiamo un altro sito, SyncMe. SyncMe è in grado, si sceglie ovviamente il paese, dando una numerazione è possibile conoscere non il titolare, che informazione non è ufficiale, ma un'informazione relativa a chi potrebbe essere l'interlocutore. Questo perché lo strumento si basa sul fatto che l'app, che è possibile anche scaricare, fa in modo di condividere le rubriche telefoniche, quindi attenzione per motivi di privacy a fare questa operazione. Però chi l'ha fatto evidentemente ha condiviso col sito tutte le informazioni relative alla propria rubrica e quindi vi posso assicurare che è possibile facilmente recuperare informazioni relative a molte numerazioni telefoniche anche non visibili, non note. E per ultimo il database di celle telefoniche, laddove si volesse andare a capire, visto che l'operatore di traffico telefonico, l'operatore non ha magari, non abbiamo la possibilità di ricevere i dati da lui, questo è un database aperto di celle telefoniche raccolte in tutto il mondo e quindi magari contiene anche delle celle utili per l'analisi che stiamo facendo. Esistono altri strumenti disponibili online per l'identificazione dei codici e-mail, oltre ovviamente a quelli che abbiamo fatto vedere poco fa? Riepiloghiamo quindi gli spunti di riflessione che abbiamo visto durante questa lezione. Grazie alle informazioni presenti sul tabulato, possiamo capire il modello di telefono usato per esempio durante una specifica chiamata? In ogni tabulato di traffico sono sempre presenti le celle del chiamante e del chiamato? A cosa serve una mappa di copertura e perché è utile per produrre ipotesi di localizzazione? Esistono altri strumenti disponibili online per l'identificazione dei codici e-mail? Qui termina la lezione odierna, ricordo di collegarsi al sito dell'Università per ulteriori informazioni e indicazioni relative alla lezione e arrivederci alla prossima. Grazie a tutti! Grazie a tutti!